Carissimo direttore, ho letto il suo editoriale e la ringrazio molto per l'attenzione rivoltami e soprattutto perché in questo modo mi dà la possibilità di chiarire. Ottenere un finanziamento non è assolutamente cosa dovuta. Per ottenerlo è necessario presentare un progetto valido e innovativo che abbia dei requisiti che lo rendano esclusivo e competitivo. Giusto, caro assessore, ma mi evidenzi come possono fare i telespettatori dove ho scritto l'inverso avendo solo detto invece che oltre ai grandi progetti la città merita anche una vivibilità quotidiana altrimenti, dopo essere scesi dalla futura terrazza panoramica parte integrante dell'investimento di quasi 5 milioni di euro i cittadini e i turisti si troveranno pericolose strade farcite da crateri e craterini. Continua l'assessore Messuti conosco bene, vivendole quotidianamente da cittadino in primis le varie problematiche che attanagliano nella nostra lecce una fra tutte il problema del dissesto stradale. Dal 2010, dopo i tagli del governo centrale le risorse annue per la manutenzione ordinaria montano a 300 mila euro ne consegue che amministrare una città diventa impresa ardua come lei può immaginare. Caro assessore, io non immagino, cerco di comprendere e comprenderla ma non posso giustificare questa sua puerile giustificazione scusi il gioco di parole. Innanzitutto mi auguro che questa sua risposta non sia stata determinata dal vizio italico di colui che si risente per l'esa maestà non le farebbe onore. Invece di addurre come causale le esigue risorse per la manutenzione ordinaria mi faccia capire anzi lo faccia sapere ai cittadini se si è mai posto il problema di come siano stati usati gli introiti derivanti dalle multe del 2012, del 2013 e come saranno usati quelli del 2014. Se lei, caro assessore, mi dichiara che per colpa del governo centrale ha la disponibilità solo di 300 mila euro sono pronto ad ospitarla in un confronto televisivo ma solo quando mi porterà e porterà alla città gli interventi fatti negli ultimi tre anni è pari al costo di circa 5 milioni e 700 mila euro invece di parlarmi dei soli 300 mila euro governativi. Da dove scaturisce la cifra di 5 milioni e 700 mila euro utile per la manutenzione stradale? Glielo dico subito. L'ex articolo 208 del codice stradale poi modificato dalla legge 120 del 2010 impone che almeno il 25% della cifra totale delle sanzioni sia destinato ad incrementare la sicurezza dei cittadini nella manutenzione delle strade. Dal 2012 a 2014 vi è stato un incremento di quasi 2 milioni di euro e per questi ultimi tre anni la cifra totale delle multe ammonterebbe a circa 22 milioni e 900 mila euro quindi calcolando il 25% altro che 300 mila euro. Ha vigilato su come siano stati usati o sarebbero stati usati circa 5 milioni e 700 mila euro? Sono certo che non si vorrà avvalere della legge italiana che pur imponendo alle giunte comunali di determinare con una delibera le quote da destinare alle finalità imposte dal codice stradale non impone a queste di specificare nel dettaglio come sarà utilizzato il denaro. Caro Assessore, ci faccia sapere o indaghi se cifre così importanti siano state o meno destinate verso altro impegno di spesa. Ma l'Avvocato Messuti cerca ancora di chiarire quanto mai affermato. I finanziamenti ottenuti per la realizzazione di grandi opere non possono essere destinati ad altro utilizzo se non quello originale. In parole povere, ai miei cittadini vorrei spiegare che se i fondi destinati al progetto del ponte non fossero stati utilizzati sarebbero andati persi e mai avremmo potuto destinarli a rifare le strade come lei ha voluto semplificare. Caro Assessore, ripeto, non amo semplificare e non ho mai detto che somme possono essere facilmente dirottate da un capitolo di bilancio ad un altro né tantomeno affermato che invece del ponte sarebbe stato utile usare i 5 milioni di euro del progetto per rifare le strade. Le chiedo cortesemente di essere più attento nella lettura di quanto viene scritto se è veramente a cuore il chiarimento alla città. Io avrei voluto ricevere la sua lettera con l'elenco di tutti gli interventi ordinari fatti dalla pubblica amministrazione che lei rappresenta attraverso l'uso dei soldi delle multe pagate dai cittadini senza girare intorno a frasi mai dal sottoscritto affermate. Rimango in attesa di sapere quando riuscirà a testimoniarci quanto la legge impone in tal caso sarà padrone di un confronto televisivo. Cordialmente Giuseppe Vernaleone.